Sono contento per questo anno e per questo che ho fatto e spero che questo anno sia meglio di l'anno scorso. Il ritiro quanto ti ha aiutato a crescere ancora, Vailo? Sì, sì, mi ha aiutato. Come ogni allenamento io devo dare il massimo se voglio crescere di più. Aspettiamo una difficile partita. Ho visto che Avellino ha vinto la prima partita. Una squadra forte. Dobbiamo entrare forte a campo. Iachini ha sempre dimostrato che punta forte su di te. Ti ha detto qualcosa in questo ritiro? No, non ho parlato con il mio ruolo. Io devo lavorare tanto, devo dare il massimo allenamento e speriamo che questo anno faccia bene. Il Palermo riparte da te ma anche da alcuni nuovi arrivi. C'è qualcuno di questi giocatori che ti ha colpito particolarmente? Tutti sono forti giocatori e aiutano tanto questa stagione. 3-5-2 e 4-3-1-2. State provando questi moduli. Tu hai preferenze? No, il mio ruolo è cambio poco. Per me è uguale perché sono sempre centrocampo. A settembre al Barbera c'è Italia-Bulgaria. Quanto sarebbe bello giocare contro Vazquez nel vostro stadio? Sono contento perché giocherei contro il mio compagno Vazquez. Sono felice che giochiamo al nostro stadio. Il 23 agosto il campionato inizia con Palermo-Genoa. È stata la tua partita lo scorso anno? Spero che questa partita finisse come è finita la partita di anno scorso. Che obiettivi ha questo Palermo, Ivailo? Dove può arrivare? Il primo obiettivo è salvezza e che facciamo qualcosa di più e meglio.